Sura 46 Hamim La rivelazione del libro proviene da Allah, l'Eccelso, il Saggio. Non creammo i ciei della terra e quel che vi ha fra mezzo, se non con verità e fino ad un termine stabilito, ma i miscredenti non badano a ciò di cui sono stati avvertiti. D. Guardate coloro che invocate all'infuori di Allah. Mostratemi quel che hanno creato della terra. Oppure è nei cieli che sono associati ad Allah. Se siete sinceri, portate una scrittura anteriore a questa, o una traccia di scienza. E chi è più sviato di colui che invoca all'infuori di Allah, chi non saprà rispondergli fino al giorno della resurrezione? Essi non hanno neppure coscienza dell'invocazione che viene loro rivolta, e quando gli uomini saranno riuniti, saranno loro nemici e rinnegeranno la loro adorazione. Quando vengono recitati loro i nostri versetti espliciti, i miscredenti dicono della verità che viene ad essi. È magia evidente. Oppure dicono, l'ha inventato lui. D. Se l'avessi inventato io, non potreste fare nulla per me contro la punizione di Allah. Egli ben conosce quello che propalate, ed è testimone sufficiente tra me e voi. Egli è il perdonatore, il misericordioso. D. Non costituisco un'innovazione rispetto agli inviati, né conosco quel che avverrà a me e a voi. Non faccio che seguire quello che mi è stato rivelato. Non sono che un ammonitore esplicito. D. Ma non vedete? Se esso viene da Allah e voi non credete in esso, mentre un testimone dei figli di Israele conferma la sua conformità e crede, mentre voi lo rifiutate per orgoglio? In verità Allah non guida gli ingiusti. I miscredenti dicono ai credenti, se esso fosse un bene, costoro non ci avrebbero preceduto. D. Siccome non sono affatto guidati, diranno, questa non è che una vecchia menzogna. D. Prima di esso, c'era la scrittura di Mosè, Guida e misericordia. Questo libro ne la conferma, in lingua araba, per ammonire gli ingiusti ed essere lieta novella per coloro che fanno il bene. D. Sì, coloro che dicono, il nostro Signore è Allah e agiscono rettamente, non avranno nulla da temere e non saranno afflitti. Essi saranno i compagni del giardino, in cui rimarranno in perpetuo, compenso per quello che avranno fatto. D. Abbiamo ordinato all'uomo la bontà verso i genitori. Sua madre lo ha portato con fatica e con fatica lo ha partorito. Gravidanza e svezzamento durano trenta mesi. D. Quando raggiunge la maturità ed è giunto ai quarant'anni, dice, Signore, dammi modo di renderti grazie del favore di cui ha colmato me e i miei genitori, affinché compia il bene di cui ti compiaci, e concedimi una discendenza onesta. D. Io mi volgo pentito a Te, e sono uno dei sottomessi. D. Accetteremo le loro azioni più belle, e sorvoleremo i suoi loro misfatti. Saranno tra i compagni del giardino. Promessa veritiera, fatta a loro. Quanto invece a colui che dice ai suoi genitori, Uff, a voi, vorreste promettermi che sarò fatto risorgere quando già passarono molte generazioni prima di me? Essi invocheranno l'ausilio di Allah dicendo, Guai a te, credi che la promessa di Allah è veritiera? Risponderà, Sono le favole degli antichi. Essi sono coloro contro i quali si realizza la sentenza, come si realizzò fra le comunità di uomini e di demoni che li precedettero. In verità saranno i perdenti. Ci saranno gradi di merito per ciascuno di loro, in base a quello che avranno fatto. Allah li compenserà pienamente delle loro opere, e non subiranno alcun torto. Nel giorno in cui i miscredenti saranno condotti al fuoco, sarà detto loro, Avete dissipato i vostri beni nella vita terrena, e ne avete goduto. Oggi, siete compensati con un castigo avvilente, per l'orgoglio che senza alcun diritto manifestavate sulla terra, e per la vostra perversione. E ricorda il fratello degli Ad, quando ammonì il suo popolo presso Al-Ahkaf. Vennero prima di lui e dopo di lui gli ammonitori. Disse, Non adorate altri che Allah. Temo per voi il castigo di un giorno terribile. Dissero, Sei venuto per allontanarci dei nostri dèi? Fa venire ciò di cui ci minacci, se sei sincero. Disse, La scienza è solo presso Allah. Io vi comunico ciò con cui sono stato inviato. Ma vedo che siete gente ignorante. Quando videro una densa nuvola dirigersi verso le loro valli, dissero, Ecco una nuvola, sta per piovere. No, è proprio quello che cercavate di affrettare. È un vento che porta a sé con doloroso castigo, che tutto distruggerà per ordine del suo Signore. Al mattino, non erano visibili che i resti delle loro case. Così compensiamo i malvagi. Avevamo dato loro mezzi che a voi non abbiamo dato. Avevamo donato loro l'udito, gli occhi e i cuori. Ma il loro udito, i loro occhi e i loro cuori, non giovarono loro, perché negavano i segni di Allah. Li avvolse ciò di cui si burlavano. Già nientammo le città attorno a voi, eppure avevamo mostrato loro i nostri segni affinché ritornassero a noi pentiti. Perché mai non li soccorsero coloro che si erano presi come intermediari e dei all'infuori di Allah? Anzi, li abbandonarono. Non erano altro che calunnie e menzogne. E ricorda quando ti conducemmo una schiera di demoni affinché ascoltassero il Corano. Si presentarono dicendosi, ascoltate in silenzio. Quando poi la lettura fu conclusa, fecero ritorno al loro popolo per avvertirlo. Dissero, O popolo nostro, in verità abbiamo sentito la recitazione di un libro rivelato dopo quello di Mosè, a conferma di quello che lo precede. Guida alla verità e alla retta via. O popolo nostro, rispondete all'araldo di Allah e credete in lui, affinché egli vi perdoni una parte dei vostri peccati, e vi preservi dal doloroso castigo. Quanto a colui che non risponde all'araldo di Allah, non potrà diminuire la sua potenza sulla terra e non avrà patroni all'infuori di lui. Costoro sono in manifesto errore. Non vedono che Allah ha creato i cieli e la terra, che non si è stancato della loro creazione ed è capace di ridare la vita ai morti? Sì, in verità egli è l'Onnipotente. E il giorno in cui i miscredenti saranno condotti al fuoco, verrà chiesto loro, non è questa la verità? Diranno, sì, per il nostro Signore. Dirà Allah, gustate allora il castigo della vostra miscredenza. Sopporta con pazienza, come sopportarono i messaggeri risoluti. Non cercare di affrettare alcunché per loro. Il giorno in cui vedranno qualche stato promesso loro, sarà come se fossero rimasti solo un'ora del giorno. Questo è solo un annuncio. Chi altri sarà annientato, se non i perversi? Sura 47 Alla vanificherà le opere dei miscredenti e di quelli che distolgono dalla sua via. Rimetterà i peccati e volgerà al bene lo spirito di coloro che credono e compiono il bene e credono in quel che è stato rivelato a Muhammad. Questa è la verità che proviene dal loro Signore perché i miscredenti seguono il falso mentre i credenti seguono la verità proveniente dal loro Signore. Così Allah propone il loro esempio agli uomini. Quando in combattimento incontrate i miscredenti colpitali al collo finché non li abbiate soggiogati poi legateli strettamente. In seguito liberateli graziosamente o in cambio di un riscatto finché la guerra non abbia fine. Questo è l'ordine di Allah. Se Allah avesse voluto li avrebbe sconfitti ma ha voluto mettervi alla prova gli uni contro gli altri e farà sì che non vadano perdute le opere di coloro che saranno stati uccisi sulla via di Allah. Li guiderà migliorerà la loro condizione e li introdurrà nel paradiso di cui li ha resi adotti. O credenti se farete trionfare la causa di Allah egli vi soccorrerà e renderà saldi i vostri passi mentre coloro che non credono saranno perduti egli vanificherà le loro opere. Poiché ebbero ripulsa di quello che Allah ha rivelato egli vanificherà le loro opere. Non hanno viaggiato sulla terra e non hanno visto quale fu la sorte di coloro che li precedettero? Allah li ha annientati. La stessa fine è riservata ai miscredenti. Ciò in quanto Allah è il patrono dei credenti mentre i miscredenti non hanno patrono alcuno. Quanto a coloro che credono e fanno il bene Allah li farà entrare nei giardini dove scorrono i ruscelli. coloro che non credono avranno effimero godimento e mangeranno come mangia il bestiame. Il fuoco sarà il loro asilo. E quante città distruggemmo che pure erano più potenti della tua città che ti ha bandito non ebbero nessun soccorritore. Colui che si basa su una prova del suo signore è forse uguale a colui cui è stata abbellita la sua azione peggiore e che si abbandona alle sue passioni? Ecco la descrizione del giardino che è stato promesso ai timorati di Allah. Ci saranno ruscelli di un'acqua che mai sarà malsana e ruscelli di latte dal gusto inalterabile e ruscelli di un vino delizioso a bersi e ruscelli di miele purificato. E ci saranno per loro ogni sorta di frutta e il perdono del loro signore. Essi sono forse simili a coloro che rimangono in perpetuo nel fuoco e che verranno abbeverati di un'acqua bollente che devasterà le loro viscere? Fra loro ci sono quelli che fanno finta di ascoltarti ma quando sono usciti dalla tua casa dicono a coloro cui è stata data la scienza che cosa ha detto poc'anzi? Essi sono coloro cui Allah ha suggellato i cuori e che si abbandonano alle loro passioni. Quanto invece a coloro che si sono aperti alla guida egli accresce la loro guida e spira loro il timore di Allah. Cos'altro aspetta nei miscredenti se non che venga improvvisa l'ora? Già i segni precursori sono giunti ma quando essa sarà giunta a che cosa mai servirà a loro il ricordarsi di Allah? Sappi che in verità non c'è Dio all'infuori di Allah e implora perdono per la tua colpa e per i credenti e le credenti. Allah ben conosce il vostro affanno e il vostro rifugio. I credenti dicono perché non è stata fatta scendere una sura? Quando poi viene rivelata una sura esplicita in cui viene menzionato il combattimento vedi coloro che hanno una malattia nel cuore guardarti con lo sguardo di chi è abnubilato davanti alla morte. Per voi sarebbe meglio obbedire e parlare onestamente. Quando fosse stabilito il da farsi sarebbe meglio per loro che si mostrassero sinceri di fronte ad Allah. Se volgeste le spalle potreste spargere corruzione sulla terra e rompere i legami del sangue essi sono coloro che Allah maledice li rende sordi e acceche i loro occhi non mediteranno sul corano hanno forse catenacci sui cuori coloro che volgono le spalle dopo che allora è stata resa evidente la guida sono quelli che Satana ha sedotto e illuso perché hanno detto a coloro che hanno ripulsa di quello che Allah ha fatto scendere vi obbediremo in una parte della questione Allah ben conosce i loro segreti cosa faranno quando gli angeli li finiranno colpendo i loro volti e le loro schiene ciò avverrà perché perseguono quello che suscita l'ira di Allah e hanno in odio ciò di cui egli si compiace sicché Allah renderà vane le opere loro oppure coloro che hanno una malattia nel cuore credono che Allah non saprà far trasparire il loro odio se volessimo te li mostreremmo ma già tu li riconosci dei loro tratti e li riconosceresti dal tono nel parlare Allah conosce le vostre opere certamente vi metteremo alla prova per riconoscere quelli di voi che combattono e resistono e per verificare quello che si dice sul vostro conto in verità coloro che non credono e distolgono dalla via di Allah e si sono separati dall'inviato dopo che è stata loro resa evidente la guida non sapranno nuocere ad Allah in alcunché ed egli vanificherà il loro agire o credenti obbedite ad Allah e obbedite al messaggero e non vanificate le opere vostre in verità Allah non perdonerà mai coloro che non credono distolgono dalla via di Allah e muoiono nella miscredenza non siate dunque deboli e non proponete l'armistizio mentre siete preponderanti Allah è con voi e non diminuirà il valore delle vostre azioni la vita terrena non è altro che gioco e distrazione se invece credete siete timorati egli vi darà il vostro compenso senza chiedere i vostri beni se ve li chiedesse con insistenza vi mostrereste avari e fareste trasparire il vostro odio ecco siete invitati ad essere generosi per la causa di Allah ma qualcuno di voi è avaro chi si mostrerà avaro lo sarà nei confronti di se stesso Allah è colui che basta se stesso mentre siete voi ad essere poveri se volgerete le spalle vi sostituirà con un altro popolo e costoro non saranno uguali a voi sura 48 in verità ti abbiamo concesso una vittoria evidente affinché Allah ti perdoni le tue colpe passate e future perfezioni su di te il suo favore e ti guidi sulla retta via e affinché Allah ti presti ausilio possente egli è colui che ha fatto scendere la pace nel cuore dei credenti affinché possano accrescere la loro fede appartengono ad Allah le armate dei cieli e della terra Allah è sapiente saggio lo ha fatto per far entrare i credenti e le credenti nei giardini in cui scorrono i ruscelli dove rimarranno in perpetuo per mondarli dei loro peccati questo è successo enorme presso Allah e per castigare gli ipocriti e le ipocrite gli associatori e le associatrici che hanno cattiva opinione di Allah che la sventura si abbatta su di loro Allah è adirato contro di loro li ha maledetti e ha preparato per loro l'inferno qual triste avvenire appartengono ad Allah le armate dei cieli e della terra Allah è eccelso saggio in verità ti abbiamo mandato come testimone nunzio e ammonitore affinché crediate in Allah e nel suo messaggero e affinché lo assistiate lo onoriate e gli rendiate gloria al mattino e alla sera in verità a coloro che prestano giuramento di fedeltà è ad Allah che lo prestano la mano di Allah è sopra le loro mani chi mancherà al giuramento lo farà solo a suo danno a chi invece si atterrà al patto con Allah egli concederà una ricompensa immensa quei beduini che sono rimasti indietro ti diranno ci hanno trattenuto i nostri beni e le nostre famiglie chiedi perdono per noi con le loro lingue pronunciano cose che non sono nei loro cuori di chi mai potrà intervenire in vostro favore di fronte ad Allah che egli voglia per voi un male o un bene sì Allah è ben informato di quello che fate pensavate anzi che il messaggero e i credenti non sarebbero mai più tornati alla loro famiglia questa convinzione è parsabella ai vostri cuori e avete concepito un cattivo pensiero foste gente perduta abbiamo preparato la fiamma per i miscredenti per coloro che non credono in Allah e nel suo inviato appartiene ad Allah la sovranità sui cieli e sulla terra egli perdona chi vuole e castiga chi vuole Allah è perdonatore misericordioso coloro che sono rimasti indietro quando vi metterete in marcia per impadronirvi di un bottino diranno lasciate che vi seguiamo vorrebbero cambiare la parola di Allah di giammai ci seguirete Allah ha detto così in precedenza diranno siete gelosi di noi sono loro invece a capire ben poco di a quei beduini che sono rimasti indietro presto sarete chiamati a combattere contro gente di grande valore dovrete combatterli finché non si sottomettono se obbedirete Allah vi darà una bella ricompensa se invece volgerete le spalle come già le avete voltate vi punirà con un doloroso castigo non ci sarà colpa per il cieco né per lo storpio né per il malato quanto a chi obbedisce ad Allah e al suo messaggero Allah lo introdurrà nei giardini in cui scurrono i ruscelli quanto invece a chi volgerà le spalle egli lo punirà con un doloroso castigo già Allah si è compiaciuto dei credenti quando ti giurarono fedeltà sotto l'albero sapeva quello che c'era nei loro cuori e fece scendere su di loro la pace li ha ricompensati con un'imminente vittoria e con l'abbondante bottino che raccoglieranno Allah è eccelso saggio Allah vi promette l'abbondante bottino che raccoglierete ha propiziato questa tregua e ha trattenuto le mani di quegli uomini affinché questo sia un segno per i credenti e per guidarvi sulla retta via vi ha promesso altre vittorie che allora non erano alla vostra portata ma Allah li ha soverchiati Allah è onnipotente se coloro che non credono vi combattono certo volgeranno le spalle e non troveranno nessun alleato nessun soccorritore già questa fu la consuetudine di Allah e non troverai mai cambiamento nella consuetudine di Allah egli è colui che nella valle della Mecca ha trattenuto da voi le loro mani e da loro le vostre dopo avervi concesso la supremazia Allah osserva quel che fate sono i miscredenti che hanno ostruito la via per raggiungere la Santa Moschea e hanno impedito che le vittime sacrificali giungessero al luogo del sacrificio se non ci fossero stati uomini credenti e donne credenti che voi non conoscevate e che avreste potuto calpestare inconsapevolmente rendendovi così colpevoli di una guerra contro di loro così Allah farà entrare chi vuole nella sua misericordia se i credenti si fossero fatti riconoscere certamente avremmo colpito con doloroso castigo coloro che non credevano e quando i miscredenti riempirono di furore i loro cuori il furore dell'ignoranza Allah fece scendere la sua pace sul suo messaggero e sui credenti e li volse l'espressione del timore di Allah di cui erano più degni e più vicini Allah conosce tutte le cose Allah mostrerà la veridicità della visione concessa al suo messaggero se Allah vuole entrerete in sicurezza nella santa moschea le teste rasate o i capelli accorciati senza più avere timore alcuno Egli conosce quello che voi non conoscete e già ha decretato oltre a ciò una prossima vittoria Egli è colui che ha inviato il suo messaggero con la guida e la religione della verità per farla prevalere su ogni altra religione Allah è testimone sufficiente Muhammad è il messaggero di Allah e quanti sono con lui sono duri con i miscredenti e compassionevoli fra loro li vedrà inchinarsi e prosternarsi bramando la grazia di Allah e il suo compiacimento il loro segno è sui loro volti la traccia della prosternazione ecco l'immagine che ne dà di loro la Torah l'immagine che invece ne dà il Vangelo è quella di un seme che fa uscire il suo germoglio poi lo rafforza e lo ingrossa ed esso si erge sul suo stelo nell'ammirazione dei seminatori tramite loro Allah fa corrucciare i miscredenti Allah promette perdono e immensa ricompensa a coloro che credono e compiono il bene Sura Sura 49 O credenti non anticipate Allah e il suo messaggero e temete Allah Allah è audiente sapiente O credenti non alzate la vostra voce al di sopra di quella del profeta e non alzate con lui la voce come l'alzate quando parlate tra voi che rischiereste di rendere vane le opere vostre a vostra insaputa Coloro che abbassano la voce davanti all'inviato di Allah sono quelli cui Allah ha disposto il cuore al timore di lui avranno il perdono e ricompensa immensa Quanto a coloro che ti chiamano dall'esterno delle tue stanze intime la maggior parte di loro non comprendono nulla se avessero atteso con pazienza affinché tu non esca loro incontro sarebbe stato meglio per loro Allah è perdonatore misericordioso O credenti se un malvagio vi reca una notizia verificatela affinché non portiate per disinformazione e pregiudizio a qualcuno e abbiate poi a pentirvi di quel che avrete fatto e sappiate che il messaggero di Allah è tra voi se in molte questioni accondiscendesse ai vostri desideri voi sareste in gravi difficoltà ma Allah vi ha fatto amare la fede e la resa bella ai vostri cuori così come vi ha fatto detestare la miscredenza la malvagità e la disobbedienza essi sono i ben diretti questa è la grazia di Allah e il suo favore Allah è sapiente saggio se due gruppi di credenti combattono tra loro riconciliateli se poi ancora uno di loro commettesse degli eccessi combattete quello che cede finché non si pieghi all'ordine di Allah quando si sarà piegato ristabilite con giustizia la concordia tra di loro e siate equi poiché Allah ama coloro che giudicano con equità in verità i credenti sono fratelli ristabilite la concordia tra i vostri fratelli e temete Allah forse vi sarà usata misericordia o credenti non scherniscano alcuni di voi gli altri che forse questi sono migliori di loro e le donne non scherniscano altre donne che forse queste sono migliori di loro non diffamatevi a vicenda e non datevi nomignoli come è infame l'accusa di iniquità rivolta a chi è credente coloro coloro non si pentono sono gli iniqui o credenti evitate di far troppe illazioni che una parte dell'illazione è peccato non vi spiate e non sparlate gli uni degli altri qualcuno di voi mangerebbe la carne del suo fratello morto ne avreste anzi orrore temete Allah Allah sempre accetta il pentimento e misericordioso o uomini vi abbiamo creato da un maschio e da una femmina e abbiamo fatto di voi popoli e tribù affinché vi conosceste a vicenda presso Allah il più nobile di voi è colui che più lo teme in verità Allah è sapiente ben informato i beduini hanno detto crediamo di voi non credete dite piuttosto ci sottomettiamo poiché la fede non è ancora penetrata nei vostri cuori se obbedirete ad Allah e al suo inviato egli non trascurerà nessuna delle vostre buone azioni in verità Allah è perdonatore misericordioso i veri credenti sono coloro che credono in Allah e nel suo inviato senza mai dubitarne e che lottano con i loro beni e le loro persone per la causa di Allah essi sono i sinceri di sareste forse voi a distruire Allah sulla vostra religione mentre Allah conosce ciò che è nei cieli e sulla terra Allah conosce tutte le cose vantano questa sottomissione come fosse un favore da parte loro di non rinfacciatemi il vostro islam come se fosse un favore è piuttosto Allah che vi ricorda il suo favore di avervi guidati verso la fede che otterrete se siete sinceri Allah conosce l'invisibile dei cieli e della terra e Allah ben osserva quel che fate kaf per il glorioso corano e invece si stupiscono che sia giunto loro un ammonitore della loro gente dicono i miscredenti questa è una cosa strana ma come quando saremo morti ridotti in polvere sarebbe tornare da lontano ben sappiamo quel che la terra divorerà presso di noi c'è un libro che conserva ogni cosa e invece tacciano di menzogna la verità che è giunta loro ed ecco che sono in grande confusione non osservano il cielo sopra di loro come lo abbiamo edificato e abbellito e senza fenditura alcuna e la terra l'abbiamo distesa vi infiggemmo le montagne e vi facemmo crescere ogni specie di meravigliosa vegetazione invito questo alla riflessione e monito per ogni servo penitente abbiamo fatto scendere dal cielo un'acqua benedetta per mezzo della quale abbiamo fatto germogliare giardini e il grano delle messi e palme slanciate dalle spate sovrapposte sostentamento dei nostri servi per suo tramite rivivifichiamo una terra che era morta in egual maniera avverrà la ressurrezione prima di loro tacciarono rimenzogne i nostri segni il popolo di noè e quelli di arras i samud e gli ad e faraone e fratelli di lot e le genti di al ha e il popolo di tuba tutti quanti accusarono rimenzogne messaggeri la mia minaccia dunque si realizzò saremmo forse spossati dalla prima creazione no sono invece loro ad essere confusi a proposito della nuova creazione in verità siamo stati noi ad aver creato l'uomo e conosciamo ciò che gli sussurra l'animo suo noi siamo a lui più vicini della sua vena giugolare quando i due che registrano seduti alla sua destra alla sua sinistra raccoglieranno il suo dire l'uomo non pronuncerà nessuna parola senza che presso di lui ci sia un osservatore solerte l'agonia della morte farà apparire la verità ecco da cosa fuggivi sarà soffiato nel corno ecco il giorno della minaccia ogni anima verrà accompagnata da una guida e da un testimone uno dirà davvero trascuravi tutto ciò ora abbiamo sollevato il tuo velo e quindi oggi la tua vista è acuta e dirà il suo compagno ecco quello che ho pronto o voi due gettate nell'inferno ogni miscredente testardo nemico del bene trasgressore scettico che pose a fianco di Allah un'altra divinità gettatelo nell'orrendo castigo dirà il suo compagno signore non sono stato io ad incitarlo alla ribellione già era profondamente traviato dirà Allah non polemizzate al mio cospetto già vi resi nota la minaccia di fronte a me la sentenza non cambia né sono ingiusto verso i miei servi il giorno in cui diremo all'inferno sei pieno esso risponderà c'è altro da aggiungere il giardino sarà avvicinato ai timorati ecco quel che vi è stato promesso a voi e a chi è pentito a chi si preserva dal peccato a chi teme il compassionevole nell'invisibile e ritorna lui con cuore contrito entratevi in pace questo è il giorno della perpetuità colavrano tutto quel che vorranno e presso di noi c'è ancora di più quante generazioni sterminammo prima di loro che pure erano più potenti di loro e che inutilmente cercarono percorrendo le contrade di sfuggire al castigo inciovio monito per chi ha un cuore per chi presta attenzione e testimonia già creammo i cieli la terra e quel che vi è fra mezzo in sei giorni senza che ci cogliesse fatica alcuna sopporta dunque con pazienza quel che ti dicono e glorifica il tuo signore prima che si levi il sole e prima che tramonti glorificalo in una parte della notte e dopo la prosternazione ascolta il giorno in cui l'araldo chiamerà da un luogo vicino il giorno in cui davvero sentiranno il grido quello sarà il giorno della resurrezione siamo noi che diamo la vita e che diamo la morte a noi ritorna ogni cosa il giorno in cui la terra si spaccherà all'improvviso ci sarà facile radunarli ben conosciamo quello che dicono tu non sei tiranno nei loro confronti ammonisci dunque con il corano chi non teme la mia minaccia sura cinquantunesima per i venti che spargono per quelle che portano un carico per quelle che scivolano leggere per quelli che trasmettono l'ordine quello che vi è stato promesso è vero e il giudizio avverrà inevitabilmente per il cielo solcato di percorsi in vero avete opinioni contrastanti è maldisposto chi è maldisposto maledetti blasfemi che nell'abisso dimenticano chiedono chiedono a quando il giorno del giudizio il giorno in cui saranno messi alla prova del fuoco sarà detto loro gustate la vostra prova ecco quel che volevate affrettare i timorati staranno tra i giardini e le fonti prendendo ciò che il signore darà loro poiché in passato facevano il bene dormivano poco di notte e all'alba imploravano il perdono e nei loro beni c'era un diritto per il mendicante e il diseredato sulla terra ci sono segni per coloro che credono fermamente e anche in voi stessi non riflettete dunque nel cielo c'è la vostra sussistenza e anche ciò che vi è stato promesso per il signore del cielo e della terra tutto questo è vero come è vero che parlate ti è giunta la storia degli ospiti onorati di Abramo quando entrarono da lui dicendo pace e gli rispose pace o sconosciuti poi andò discretamente dai suoi e tornò con un vitello grasso e l'offrì loro disse non mangiate nulla ebbe allora paura di loro dissero non aver paura gli diedero la lieta novella di un figlio sapiente venne dunque sua moglie gridando colpendosi il volto e dicendo sono una vecchia sterile dissero così ha comandato il tuo signore in verità egli è il saggio il sapiente disse Abramo ho inviati qual è la vostra missione risposero siamo stati inviati a un popolo di criminali per lanciare su di loro pietre d'argilla contrassegnate presso il tuo signore per coloro che cedono ne facemmo uscire i credenti e non vi trovammo che una casa di sottomessi colà lasciammo un segno per coloro che temono il castigo doloroso come in Mosè quando lo inviammo a Faraone con autorità incontestabile ma avvolse le spalle insieme coi suoi disse è uno stregone o un posseduto afferrammo lui e le sue truppe e li gettammo nei flutti per il suo comportamento biasimevoli e ci fu segno negli Ad quando inviammo contro di loro il vento devastante che nulla lasciava sul suo percorso senza ridurlo in polvere e ci fu segno nei Thamud quando fu detto loro godete per un periodo trasgredirono l'ordine del loro signore li colpì una folgore mentre ancora guardavano e non poterono restare in piedi né essere soccorsi già distruggemmo il popolo di Noè erano gente malvagia il cielo lo abbiamo costruito con la nostra potenza e costantemente lo estendiamo nell'immensità la terra l'abbiamo distesa e quanto bene la distendemmo di ogni cosa creiamo una coppia affinché possiate riflettere accorrete allora verso Allah in verità io sono per voi un ammonitore esplicito da parte sua non associate altra divinità ad Allah in verità io sono per voi un ammonitore esplicito da parte sua non mai giunse un messaggero a quelli che li precedettero senza che gli dicessero sei uno stregone un pazzo è questo quel che si sono tramandati è davvero gente ribelle volgi loro le spalle non sarai biasimato e ricorda che il ricordo giova i credenti è solo perché mi adorassero che ho creato i demoni e gli uomini non chiedo loro nessun sostentamento e non chiedo che mi nutrano in verità Allah è il sostentatore il detentore della forza l'irremovibile coloro che saranno stati ingiusti avranno la stessa sorte che toccò i loro simili non cerchino quindi di affrettarla guai a coloro che non credono per via del giorno di cui sono stati minacciati Sura 52 per il monte per un libro scritto su pergamena distesa per la casa visitata per la volta elevata per il mare ribollente il castigo del tuo signore avverrà inevitabilmente nessuno potrà impedirlo il giorno in cui il cielo tremante tremerà e le montagne si metteranno in marcia guai in quel giorno a coloro che tacciano di menzogna a coloro che si dilettano nella vanità il giorno in cui saranno spinti brutalmente nel fuoco dell'inferno sarà detto loro ecco il fuoco che tacciavate di menzogna è magia questa o siete voi che non vedete entrateci che lo sopportiate oppure no sarà per voi la stessa cosa sarete compensati solo di quello che avrete fatto in verità i timorati saranno nei giardini nelle delizie a godersi quello che il loro signore avrà dato loro il loro signore li avrà preservati dal castigo della fornace sarà detto loro mangiate e bevete in serenità ricompensa questa per quel che avete fatto saranno appoggiati su divani disposti in ranghi e daremo loro in spose le fanciulle dai grandi occhi neri coloro che avranno creduto e che saranno stati seguiti nella fede della loro progenie noi li riuniremo i loro figli non diminuiremo in nulla il merito delle loro azioni poiché ognuno è pegno di quel che si sarà guadagnato provvederemo loro i frutti e le carni che desidereranno si scambieranno un calice immune da vanità o peccato e per servirli circoleranno tra loro giovanetti simili a perle nascoste si andranno vicendevolmente incontro interpellandosi diranno vivevamo tra la nostra gente nel timore di Allah ma Allah ci ha favorito e ci ha protetti dal castigo del soffio infuocato già noi lo invocavamo egli è veramente il caritatevole il misericordioso ammonisci dunque poiché per grazia del tuo signore non sei né un indovino né un folle diranno è un poeta aspettiamo che subisca qualche vicissitudine mortale di aspettate che anch'io aspetterò con voi è la loro ragione che li induce a ciò o sono un popolo di superbi diranno lo ha inventato lui stesso piuttosto sono loro che non vogliono credere producono dunque un discorso simile a questo se sono sinceri sono stati forse creati dal nulla oppure sono essi stessi i creatori o hanno creato i cieli e la terra in realtà non sono affatto convinti hanno hanno presso di loro i tesori del tuo signore o sono loro i dominatori hanno forse una scala per ascoltare chi ascolta per conto loro lo provi irrefutabilmente alla avrebbe forse figlie e voi figli forse chiedi loro un compenso tale che si sentano gravati da un peso insopportabile possiedono l'invisibile in modo tale da descriverlo vogliono tramare un'insidia saranno piuttosto i miscredenti ad essere ingannati oppure hanno un altro dio all'infuori di Allah gloria a lui egli è bene al di sopra di quanto gli associano se vedessero cadere un pezzo di cielo direbbero è un cumulo di nuvole lasciali stare dunque finché non incontreranno quel loro giorno in cui saranno folgorati il giorno in cui la loro astuzia non gioverà loro in alcunché e non saranno aiutati in verità gli ingiusti saranno puniti già prima di quello ma la maggior parte di loro non lo sa sopporta con pazienza il decreto del tuo signore poiché in verità sei sotto i nostri occhi glorifica e loda il tuo signore quando ti alzi e glorificalo durante la notte e al declinare delle stelle sura 53 per la stella quando tramonta il vostro compagno non è traviato non è in errore e neppure parla d'impulso non è che una rivelazione ispirata gliel'ha insegnato un fortissimo di saggezza dotato che compostamente comparve si trovava all'orizzonte più elevato poi si avvicinò scendendo ancora più in basso finché fu alla distanza di due archi o meno rivelò il suo servo quello che rivelò il cuore non mentì su quel che vide vorreste dunque polemizzare su quel che vide e in vero lo vide in un'altra discesa vicino al loto del limite presso il quale c'è il giardino di Maua nel momento in cui il loto era coperto da quel che lo copriva non distorse lo sguardo e non andò oltre vide davvero i segni più grandi del suo signore cosa ne dite di Allat e di Alluza e di Manat la terza avrete voi il maschio e lui la femmina che ingiusta spartizione non sono altro che nomi menzionati da voi e da vostri antenati a proposito dei quali Allah non fece scendere nessuna autorità essi si abbandonano alle congetture e a quello che affascina gli animi loro nonostante sia giunta loro una guida del loro signore l'uomo otterrà forse tutto quel che desidera appartengono ad Allah l'altra vita e questa vita quanti angeli nel cielo la cui intercessione sarà vana finché Allah non l'abbia permessa e in favore di chi egli voglia e di chi gli aggrada in vero quelli che non credono nell'altra vita danno agli angeli nomi femminili mentre non posseggono alcuna scienza si abbandonano alle congetture ma la congettura non può nulla contro la verità dunque non ti curare di chi volge le spalle al nostro monito e non brama che la vita terrena ecco tutta la portata della loro scienza in verità il tuo signore ben conosce chi si allontana dalla sua via e conosce chi è ben diretto appartiene da là tutto quello che c'è nei cieli e tutto quello che c'è sulla terra si che compensi coloro che agiscono male per ciò che avranno fatto e compensi coloro che agiscono bene con quanto ci sia di più bello essi sono coloro che evitano i peccati più gravi e le perversità e non commettono che le colpe più lievi in vero il perdono del tuo signore è immenso egli vi conosce meglio di chiunque altro quando vi ha prodotti dalla terra e quando eravate ancora embrioni nel ventre delle vostre madri non vantatevi di essere puri egli conosce meglio di chiunque altro coloro che lo temono hai visto colui che ti volge le spalle che dà poco e poi smette di dare possiede conoscenza dell'invisibile e riesce a vederlo non è stato informato di quello che contengono i fogli di Mosè e quelli di Abramo uomo fedele che nessuno porterà il fardello di un altro e che in vero l'uomo non ottiene che il sforzi e che il suo sforzo gli sarà presentato nel giorno del giudizio e gli sarà dato pieno compenso e che in verità tutto conduce verso il tuo Signore e che egli è colui che fa ridere e fa piangere e che egli è colui che dà la vita e dalla morte e che egli è colui che ha creato i due generi il maschio e che a lui incombe l'altra creazione e che in vero è lui che arricchisce e provvede e che è lui il Signore di Sirio e che lui annientò gli antichi Ad e i Thamud sì che non ne rimase nessuno come già cadda la gente di Noè che era ancora più ingiusta e più ribelle e come già annientò le città sovvertite e fece sì che le ricoprisse quel che le ricoprì quale dunque dei favori del tuo Signore vorrai mettere in dubbio questo è un monito tra gli antichi moniti l'imminente si avvicina nessuno all'infuori di Allah può svelarla ma come vi stupite di questo discorso ne riderete invece che piangerne o rimarrete indifferenti dunque prosternatevi davanti ad Allah e adorate al kamar l'ora si avvicina e la luna si spacca se vedono un segno si sottraggono e dicono è una magia continua tacciano di menzogna e seguono le loro passioni ma ogni decreto è prefissato certamente sono giunte a loro storie che dovrebbero dissuaderli dal male consolidata saggezza ma gli avvertimenti non giovano loro distogliti da loro Muhammad il giorno in cui l'araldo chiamerà qualcosa di orribile usciranno dalle tombe con gli occhi bassi come locuste disperse e si precipiteranno impauriti verso l'araldo diranno i miscredenti ecco un giorno difficile prima di loro il popolo di Noè già tacciò di menzogna tacciarono di menzogna al nostro servo e dissero è un pazzo lo difidarono dal predicare invocò il suo signore sono sopraffatto fa trionfare la tua causa spalancammo le porte del cielo ad un'acqua torrenziale e da tutta la terra scaturirono sorgenti e le acque si mescolarono in un ordine prestabilito e lo portammo su quella fatta di tavole e chiodi navigò sotto i nostri occhi fu il compenso per colui che era stato rinnegato la lasciamo come segno c'è qualcuno che se ne ricorda quale fu il mio castigo quali i miei moniti in vero abbiamo reso facile il corano che vi servisse da monito c'è qualcuno che rifletta su di esso gli ad tacciarono di menzogna quale fu il mio castigo quali i miei moniti scatenammo contro di loro un vento tempestoso durante un giorno nefasto e interminabile strappava gli uomini come fossero tronchi di palme sradicate quale fu il mio castigo quali i miei moniti in vero abbiamo reso facile il corano che vi servisse da monito c'è qualcuno che rifletta su di esso i samud tacciarono di menzogna gli ammonimenti dissero dovremmo seguire un solo mortale fra di noi davvero in tal caso saremmo traviati e folli ma come il monito è stato affidato solo a lui tra tutti noi è un gran bugiardo uno sfrontato domani sapranno chi è il gran bugiardo lo sfrontato manderemo loro la cammella come tentazione osservali e si paziente informali che devono dividere l'acqua con la cammella ognuno un suo turno per bere chiamarono uno de loro che impugnò la spada e le tagliò i garretti quale fu il mio castigo quali i miei moniti mandammo contro di loro un solo grido rimasero come erba disseccata per gli stabbi in vero abbiamo reso facile il corano che vi servisse da monito c'è qualcuno che rifletta su di esso il popolo di lot tacciò di menzogne i moniti mandammo contro di loro una tempesta di pietre eccezione fatta per la famiglia di lot che salvammo sul far dell'alba favore da parte nostra così compensiamo chi ci è riconoscente egli li aveva avvisati del nostro castigo ma dubitarono di questi moniti pretendevano i suoi ospiti ma cecamo i loro occhi dicendo provate allora il mio castigo e la veridicità dei miei moniti e in vero di buonora li sorprese un durevole castigo provate allora il mio castigo e la veridicità dei miei moniti in vero abbiamo reso facile il corano che vi servisse da monito c'è qualcuno che rifletta su di esso e in vero giunsero ammonimenti alla gente di faraone smentirono tutti quanti i nostri segni perciò li afferrammo con la presa di un possente onnipotente i vostri miscredenti o meccani sono migliori di quelli ci sono forse nelle scritture dell'immunità a vostro favore oppure diranno siamo una moltitudine capace di vincere presto sarà dispersa la moltitudine e volgeranno in fuga sarà piuttosto l'ora il loro appuntamento l'ora sarà più atroce e più amara in verità i malvagi sono nello smarrimento e nella follia il giorno in cui saranno trascinati sui loro volti fino al fuoco sarà detto loro gustate il contatto del calore che brucia ogni cosa creiamo in giusta misura e il nostro ordine è una sola parola istantaneo come battito di ciglia in vero già nientammo faziosi della vostra specie c'è forse qualcuno che rifletta in proposito tutto quel che fecero è nei registri ogni cosa piccola o grande vi è segnata i timorati saranno tra giardini e ruscelli in un luogo di verità presso un re onnipotente di 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 un di 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 Grazie.